Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Per garantirci il prossimo inverno nel caso che venisse meno il gas della Russia. Oggi Guida Tess che è una start up belga attiva per quanto riguarda l'idrogeno verde. Saluto il manager Marco Alverà. Buonasera. Buonasera. Allora prima di entrare nella politica noi abbiamo bisogno di qualche bussola dottor Alverà. Intanto partiamo da questi pescatori e da questi lavoratori di Piombino dimenticati per molti anni che hanno paura che questo rigassificatore gigantesco al molo di Piombino possa mettere in pericolo la fauna acquifera e addirittura la loro esistenza. Che cosa possiamo dire? Piombino l'abbiamo scelta come destinazione in pochissimo tempo e quindi è comprensibile che ci sia della preoccupazione che si deve assolutamente rassicurare. Non ci sono problemi. È una nave come tale può essere poi successivamente anche ricollogata. Piombino è proprio un posto strategico perché è molto vicino alla rete della SNAM. C'è il pescaggio giusto e l'Italia e devo dire anche l'Europa hanno un enorme bisogno di queste navi, di questi rigassificatori in tempo per l'inverno prossimo proprio per riempire gli stoccaggi che sono un elemento fondamentale per la sicurezza energetica. Ce ne sono anche in altri paesi di rigassificatori a nave, nave rigassificatori nei porti? La nave ha proprio questo vantaggio di essere molto compatta, di essere un rigassificatore rispetto a tutte le altre infrastrutture molto meno difficile da accettare da un certo punto di vista. Poi chi è proprio lì vicino si fa delle domande e gli vanno date delle risposte ma non ci sono né preoccupazioni ambientali e tantomeno quelle legate alle attività marittime. Dottor Alvera, ho visto che l'Europa ha posticipato già la decisione, la riunione per quanto riguarda il tetto del prezzo sul gas russo. Quindi già c'è, come dire, vacilla l'Europa di fronte alle minacce di Putin di tagliare completamente il gas in caso che venga messo dall'Europa un tetto al prezzo. Questo che significa? Che l'Europa oggi non può permettersi di rinunciare con l'inverno alle porte al gas russo? L'Europa ovviamente importa molto gas russo e difficilmente si può azzerare questa importazione. Il tema del tetto del prezzo è un tema molto complesso, è un tema che ha senso affrontare pensando in modo insieme, pensando a livello europeo. Il gas non ha frontiere, quindi il gas scorre liberamente nei tubi attraverso l'Europa, quindi serve assolutamente una soluzione europea. È un tema tecnicamente complesso, è un tema che però si è affrontato insieme e soprattutto se l'Europa riesce a dotarsi di un acquirente unico come è stato poi per i vaccini, che riesca a mettere insieme la forza di questo grande, enorme mercato, possiamo comprare gas a condizioni migliori e lasciare che i prezzi scendano perché è un tema di domanda e offerta. C'è più domanda di gas di quanto ce ne sia l'offerta. Se l'offerta si riduce ulteriormente i problemi sono ancora più grandi. In modo chiaro, se non ci fosse il gas russo, che autonomia abbiamo questo inverno come privati e come sistema industriale? Allora, d'inverno si consuma 5-6 volte più gas che d'estate, più energia in generale che d'estate. E si riscaldano anche le aziende, quindi molti pensano che i consumi industriali siano solo per le attività del processo industriale, ma c'è anche molto riscaldamento. E pertanto dipenderà molto dalla temperatura. Una settimana di freddo, vi ricordate il Burian di qualche anno fa, quando viene quel freddo proprio dalla Siberia, che cambia le temperature in tutto il paese, una settimana di freddo consuma enormi quantità di gas. Quindi la domanda si fa critica attorno ai mesi di febbraio, quando gli stoccaggi iniziano a essere più vuoti. Uno stoccaggio si svuota, immaginate, come un pallone da calcio, che all'inizio l'aria esce in fretta e poi un pallone che è buco, poi alla fine resta dentro l'aria che esce con meno pressione. Quindi con gli stoccaggi meno pieni c'è meno capacità di erogazione e quindi dipenderà molto dalla temperatura. L'Italia, comunque il paese è messo meglio in Europa, abbiamo grazie al TAP una diversificazione, una nuova fonte molto importante, abbiamo i gasdotti che arrivano dal Nord Africa, abbiamo un vantaggio sicuramente geografico. L'Italia può diventare un hub del gas. Lei mi sta dicendo che noi siamo avvantaggiati rispetto alla Germania, per esempio, in caso di taglio del gas da parte della Russia? La Germania importa più gas russo di noi, la Germania come l'Italia ha molto stoccaggio, sono riusciti per fortuna a riempirlo. Uno dei paesi più fragili è proprio l'Inghilterra, di cui tristemente si parlava prima, la nuova prima ministra ha fatto dell'energia il suo punto fermo della campagna elettorale tra conservatori, ma il primo tema che ha affrontato oggi appena insediato è proprio il tema dell'energia, perché l'Inghilterra non ha giacimenti di stoccaggio. Mi faccia capire una cosa, ma Putin sta blefando oppure no? Cioè Putin può permettersi di tagliare e non vendere più il gas a noi dicendo tanto lo vendo agli indiani e ai cinesi? Allora, intanto dobbiamo pensare che la Russia esporta anche molto petrolio, la Russia esporta circa 10 milioni di barili di petrolio e molto gas. Adesso sta vendendo il gas a 300 dollari a megawattora, quel gas l'anno scorso lo vendeva a 10 dollari, quindi un anno di questi tempi vale come 30 anni dell'anno scorso. Allora, non c'è un tema di liquidità in Russia, è una guerra questa che costa molto poco ai russi, è una guerra che secondo i nostri calcoli può costare 50 miliardi di dollari. L'America ci ha abituato a delle guerre costosissime con i caccia, con le portaerei, con la distruzione e la ricostruzione di paesi, pensiamo alle campagne in Iraq, in Afghanistan. Questa di Putin è una guerra che costa poco e quindi è già abbondantemente finanziata. Le vendite di petrolio continuano, le vendite di gas verso la Cina crescono, sicuramente l'Europa è un mercato che però è importantissimo, ma non direi che è fondamentale per la Russia, soprattutto nel breve e medio termine. È chiarissimo ed è anche molto preoccupante quello che lei ci dice dal punto di vista poi strategico e geopolitico. L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda le energie alternative. Lei si occupa di idrogeno verde, di cui sentiamo parlare davvero pochissimo, ma in generale quello che si domanda a un italiano comune, medio, è ma domani possiamo soppiantare il gas e il petrolio con le cosiddette energie alternative? Quanto tempo ci vuole per fare questo? Succederà molto più velocemente del previsto. Qui in studio con me mi ha accompagnato il mio socio amico Paddy Padmanathan, che è l'amministratore delegato del più importante sviluppatore di energie solari, basato in Arabia Saudita, che mollerà quell'azienda per lavorare insieme a me a questi progetti che stiamo facendo. Lui riesce a produrre energia del sole a 10 euro a megawattora. Abbiamo detto che il gas oggi lo compriamo a 300 e l'energia elettrica la compriamo a 700. Allora l'unico tema, e abbiamo messo un marchio su questo slogan che abbiamo lanciato, che si chiama PPWS, che in inglese purtroppo vuol dire put the panels where it's sunny. Noi dobbiamo correre a riempire tutti i deserti possibili, tutti i deserti, servono microscopici pezzi di deserto, di pannelli solari, per produrre energia elettrica a 10, trasformare questa energia elettrica in idrogeno, oggi a 70, domani a circa 20 euro a megawattora, e sostituire tutte le fonti fossili, partendo dal carbone, dal petrolio, dal diesel, fino ad arrivare al gas. Ma è chiaro che col gas a 300 non c'è partita. Avremo anche l'idrogeno a breve? L'idrogeno si può fare molto velocemente. Noi tra 3-4 anni inizieremo a portare l'idrogeno in Germania, dove stiamo facendo il più grande rigassificatore d'Europa con la TESS, e trasformiamo l'idrogeno in metano sintetico. Possiamo arrivare oggi in Germania a 100 euro a megawattora, con un metano totalmente rinnovabile fatto dall'idrogeno dove c'è sole e dove c'è vento. La faccio semplice, dobbiamo battere i denti per un paio d'anni, Alvera. Purtroppo questo riesca di essere un inverno molto difficile, come dice Gentiloni, l'Europa deve fare di più, deve farlo urgentemente. Noi vorremmo che si creasse una sorta di banca centrale europea del gas con un acquirente unico. Come le centrali di acquisto che fanno anche i comuni cittadini quando vogliono spendere meno, o i camionisti quando comprano il gasolio tutti assieme per abbassare il prezzo. L'Europa può fare la stessa cosa? L'Europa se è unita è fortissima, io temo invece che quando mancherà il gas se farà freddo ci saranno delle tensioni tra paesi e la voglia di qualcuno di chiudere le frontiere del gas e non posso immaginare che teniamo una fabbrica aperta per dire in Italia e in Austria i cittadini muoiono di freddo. Serve un patto di solidarietà per dire almeno a livello di cittadini il riscaldamento deve venire prima di alcune industrie, perché se non c'è oggi che fa ancora caldo, che siamo ancora alla fine dell'estate, un patto di solidarietà, io l'ho visto nel 2006 quando c'è stato un taglio di forniture dalla Russia all'Ucraina, visticciavano già nel 2006, la tendenza di alcuni paesi è proprio di chiudere le frontiere come è successo con Schengen, con l'immigrazione.